Scusate, scusate ragazzi, scusate Stavo solo pensando a quando ero un piccolo doggo di un anno fa Un piccolo doggo che aveva appena aperto il suo canale YouTube E parlava dei SUV che vengono presi di mira dagli ambientalisti Che dire, come sempre lo sapete voi perché siete iscritti al canale Quindi conoscete quanto io sia profetico e avevo già anticipato la cosa Nel caso in cui non siete iscritti al canale iscrivetevi perché lo so del 30% di voi guarda i miei video da iscritto Allora, l'ultima volta che ho parlato di questo argomento Avevo molti meno iscritti sicuramente quindi non tutti ricorderanno o avranno visto quel video Ma ho già parlato di questa cosa qualche mese fa, anzi proprio esattamente un anno fa Ora, di cosa e di chi stiamo parlando? Fondamentalmente si tratta di un movimento di ambientalisti Che ha come scopo quello di danneggiare i SUV I SUV per chi non lo sovesse sono quelle macchine grosse Che comunque sono un po' derivative dal fuoristrada ma in realtà non c'entrano proprio un cazzo Auto che comunque ormai hanno iniziato ad essere di moda Auto grosse che vengono utilizzate in maniera spropositata da tutti perché sono comode, spaziose Perché sono alte, in generale danno l'idea di una macchina più lussuosa, più spaziosa Poi ovviamente ci sono SUV più economici da che so 20.000 euro massimo parliamo di nuovo A SUV ovviamente molto più costosi che vanno anche che so sui 200.000 Ovviamente più si sale di prezzo più hanno anche prestazioni molto più esagerate E optional anche molto più tecnologici Il movimento ambientalista di cui vi sto parlando si chiama Tire Extinguishers E ha come scopo quello di danneggiare i SUV ma non che so rompendo le gomme Piuttosto semplicemente sgonfiandole In questo modo come si legge dai fogli che lasciano sulle auto colpite Arrecano disagio al conducente che ha la sola colpa di possedere una macchina inutilmente grossa e pesante Quindi lo stesso conducente dovrà perdere tempo risolvendo il problema gonfiando di nuovo la gomma Ora il motivo per cui lo fanno è presto detto Secondo la loro teoria infatti trattandosi di macchine molto più grosse rispetto alle comuni auto Sono molto più inquinanti e anche più pericolose In quanto in caso di incidente siccome la massa è maggiore è più facile che arrechi molti più danni E magari uccida anche qualcuno Sul fatto che siano pericolose diciamo che possiamo averne tranquillamente la conferma Anche con il triste episodio successo a casa al palocco Di cui ho già parlato in un altro video Il fatto che questi SUV così grossi siano più pericolosi di un'auto normale È chiaro per motivi molto evidenti Soprattutto se parliamo di macchine che hanno motori più prestazionali Come ad esempio l'auto che guidavano i The Borderline Sul fatto che siano invece inquinanti Addirittura il movimento dei tire extinguishers Mi pare che definisce i SUV come la seconda causa mondiale di produzione di CO2 Ecco questo lo trovo un po' esagerato E non ho trovato fonti in merito che confermassero la veridicità della cosa In generale la loro ipotesi qual è? Che siccome si tratta di macchine più grosse rispetto al normale Per muoverle c'è bisogno di un maggiore dispendio energetico Quindi il motore per fare andare avanti questa massa più importante Ha bisogno di conseguenza di più carburante E di conseguenza emette più anidride carbonica Ora nel precedente video che ho fatto riguardo questo tema Mi è stato contestato il fatto che una macchina più vecchia Rispetto ad un SUV nuovo Consuma di più ed emette più gas inquinanti Anche perché gli ultimi hanno più normative anti inquinamento eccetera E questo è senza dubbio vero perché ad esempio molte macchine vecchie tra l'altro Sono macchine a cui vengono rimossi i dispositivi anti inquinanti Quindi si consumano magari anche di meno vanno di più come motore Però alla fine emettono una quantità spropositata di agenti inquinanti Quindi pensando all'inquinamento e alla qualità dell'aria è sicuramente un malus Però se prendiamo un SUV ed una macchina normale Della stessa identica casa automobilistica Che montano lo stesso identico motore Con la stessa identica potenza ovviamente Il SUV se pesa di più perché magari poi ci sono auto berline Che pesano anche di più o comunque quanto un SUV Il SUV teoricamente dovrebbe consumare di più Però ragazzi teoricamente si parla di consumi irrisori Certo poi se le applichiamo ad un sacco di persone che si comprano il SUV Lo preferiscono ad una normale auto Penso che nell'ambiente la differenza si senta Ma secondo me a parte l'inquinamento Il problema principale di questi SUV Non sono le emissioni che questi emettono Ma il fatto che si tratta proprio di un vero e proprio scempio automobilistico Che non fa altro che non inquinare l'aria Ma inquinare le nostre città Perché sono auto grosse che non fanno altro che Occupare più posti Nei parcheggi parliamo Rendere un eventuale incidente più pericoloso Non per chi guida il SUV E congestionare in maniera deleteria il traffico cittadino Soprattutto se come nel 95% dei casi di chi guida questi cosi Non sa guidare Quindi dentro città va pianissimo Per fare una manovra ci metta un sacco di tempo Ed è questo il vero inquinamento che causano questi SUV Comunque tornando al movimento di cui vi parlavo Fino all'anno scorso ci avevo fatto un video Perché sembrava che questi Tire Extinguishers Si fossero mossi in alcune città del Regno Unito E anche della Francia Ora invece ci sono stati alcuni militanti Che si sono mossi a Torino E che hanno sgonfiato le ruote di Ben 70 SUV Che si sono trovati scritto in italiano Il manifesto di questo movimento Che recita una cosa tipo Abbiamo sgonfiato le ruote del tuo SUV Non ce l'abbiamo con te Ma con la tua macchina Ripeto ne avevo già parlato in un precedente video Quindi se siete interessati ad approfondire l'argomento Potete benissimo andarlo a vedere Ovviamente immaginate la reazione di un qualunque proprietario di un auto Che si trova la sua macchina colpita da dei ragazzini Che hanno magari poco da fare durante le loro giornate Di certo non si tratterà di una reazione Che lo spingerà a cambiare le sue abitudini meglio E soprattutto a renderle più ecosostenibili per il pianeta Nel senso il messaggio che questo gruppo di ambientalisti lascia sul cofano È molto chiaro Spiegano molto bene il motivo per cui magari un SUV è più inquinante di un'auto normale Ed è il perché hanno arrecato questo disagio a chi la possiede Però purtroppo non serve a un cazzo fare un gesto del genere Perché appunto il proprietario che si trova L'auto con la ruota sgonfia Che deve andarla a gonfiare magari nel frattempo in ritardo a qualche appuntamento L'unica cosa che fa è mandare affanculo sto messaggio del cazzo E stare più attento la prossima volta che lascia l'auto parcheggiata Magari prendendosela con questi ragazzi che cercano di fare qualcosa per l'ambiente Anche perché non è che se mi trovo un messaggio del genere sulla macchina Allora faccio Cazzo hai ragione aspetta che la vado a vendere Magari è tipo l'unica auto che una persona si può permettere Magari è un SUV di 10 anni fa che ha visto più chilometri che lavaggi E insomma la prima problematica di questo movimento è il fatto che Questi ragazzi scelgono di colpire i SUV Indipendentemente magari dalla marca che sono Dall'anno di produzione che questi hanno E da quanto questi siano lussuosi o meno Perché non è detto che chi possiede un SUV sia benestante Magari è solo una persona stupida che ha bisogno di avere una macchina più grossa Per cercare di intasare meglio il traffico cittadino Quindi in primis questo movimento dovrebbe riferirsi Più che altro a chi auto più costose Che ovviamente sono più prestazionali E consumano di più Inutile prendersela con la classe media Che ha il SUV col finanziamento di 20.000 euro Che al massimo avrà 100 cavalli Anche lì ovviamente si tratterebbe di una lotta insensata Perché chi ha una macchina costosa Una volta che si trova la ruota sgonfia Non andrà di certo a vendersi la macchina Soltanto perché un ragazzino attivista Gli dice che la sua macchina inquina troppo Però almeno forse avrebbe un senso logico Quindi il movimento non ha senso di esistere Uno, perché non porta a nessuna soluzione Non porterà nessuno a cambiare la propria auto Soltanto per un messaggio scritto sul parabrezza Due, per come l'idea di questo movimento Viene diciamo eseguita Perché alla fine danneggiare appunto la proprietà di qualcun altro Porterà quel povero Cristo ad arrabbiarsi E a prendersela con chi gli ha sgonfiato la gomma E non a prendersela con il cambiamento climatico Oppure con il governo che non fa nulla per il cambiamento climatico Diciamo che quello che viene fatto da questi attivisti Mi sembra un po' come se fosse Una specie di lotta sociale Che va più a danneggiare le altre persone Solo per divertimento e ripicca Piuttosto che per risolvere un effettivo problema Che ci sta dietro E qui una persona si potrebbe chiedere Doggo ma allora tu che cosa faresti? È molto semplice Io cercherò di limitare al massimo L'utilizzo delle auto per fare qualsiasi cosa Come ho già detto nel video sui The Borderline Ormai le auto vengono utilizzate per fare Qualsiasi fottuta cosa Che siano spostamenti lunghi Per cui ovviamente può servire Sia che si tratti di spostamenti di 100 metri Non lo so Che si può magari benissimo andare a piedi Ovviamente la soluzione per contrastare L'abuso delle auto Non è sicuramente quella di sgonfiare le ruote Delle persone che la usano troppo Ma che magari un governo decida una volta per tutte Di fare qualcosa per questo fenomeno Rendendosi conto che c'è effettivamente un problema Perché ripeto A parte il fattore inquinamento Che ripeto Non penso nemmeno che le auto Siano un fattore così inquinante Per il nostro pianeta Relativamente a tutto il resto Dell'attività entropica umana Basti pensare ad esempio Ai jet privati Che sfrecciano Consumando un sacco di carburante E di conseguenza Inquinando un sacco il nostro pianeta Quindi Tolto il fattore inquinamento A prescindere le auto L'abuso delle auto Diventa congestionante Per qualsiasi attività Che andiamo a fare Basti pensare al traffico Che si trova Quando si va a fare Non lo so Una normale commissione in giro Oppure ai parcheggi Che non si trovano Perché ci sono troppe auto Il punto è questo Soprattutto in Italia Abbiamo questa cultura Dell'auto Che ci spinge Ad usare l'auto Per qualsiasi cosa Senza minimamente Considerare altre possibilità Di mobilità Come ad esempio La più classica bicicletta Ad esempio Il Cerbero Podcast Lo conoscerete Davide Marra In più live Ha detto che lui prende E usa solo la bicicletta E non ha Nemmeno la patente Lui vive a Roma Comunque quindi Prende un sacco di mezzi pubblici Perché là vabbè Funzionano Diciamo più o meno Ma mi sono reso conto Che le persone Sono contrarie A quest'idea Di utilizzare solo La bicicletta Perché Vieni visto Come uno sfigato Che non ha l'auto Quindi c'è anche Questa pressione sociale Per chi non ha un'auto E che gli viene proposta Come unica soluzione Alla mobilità Comunque senza andare Troppo a divagare In altri argomenti Abbiamo già visto Che gli ambientalisti Per come si pongono Non vengono mai visti bene Invece di sensibilizzare Su un argomento Non fanno altro Che fare incazzare le persone Rendendo argomenti delicati Come il cambiamento climatico Quasi un tabù Perché ad esempio A me capita che Non sono un attivista Non sono un ambientalista Però a volte ci penso Magari a quelle piccole azioni Che onestamente Mi hanno insegnato A scuola Quando facevo educazione civica A quelle piccole azioni Che contribuiscono Ad inquinare un po' meno L'ambiente Poi magari Presi da soli Alla fine non servono A un cazzo Perché appunto Ci sono poi i ricchi Con i getti privati Che vanno a inquinare 150 volte Quanto una persona Può fare In un intero anno Della sua vita In ogni caso A me ad esempio Capita Quando parlo Che so Ai miei amici Dell'ambiente Del clima Ripeto Senza cercare di essere Un nazi ambientalista Semplicemente Ne parlo Senza essere Dittatoriale Semplicemente Informo E faccio presente Alcune cose Ecco Ogni volta che ne parlo Ne ho paura Perché vengo visto male Ormai Chi parla di questo tipo Di tematiche Viene visto Come gli ambientalisti Che bloccano il traffico Viene percepito Fastidioso Allo stesso modo Come se volesse Obbligare gli altri A diventare Più ecosostenibili Onestamente io Non ho il potere Di far cambiare Tutte le persone Anche con questo video Cioè Questo video stesso Non prendetelo Come una sensibilizzazione Sull'argomento Non mi interessa ragazzi Perché appunto Mi devo pure giustificare Perché magari poi Vengo visto male Vengo visto come un moralista Come un perbenista Quando sono solo un ragazzo Che alle scuole medie Ha studiato scienza Come tutti Teoricamente Lo dovrebbero aver fatto E quindi Queste cose sull'ambiente Le sapeva già da Dieci anni In ogni caso Questo video Non è fatto per mettervi Eco ansia o altro Alla fine Sì ho iniziato parlando Di questo movimento Volevo descrivere Quanto fosse stupido I controsensi Di questo movimento La reazione Che può suscitare Nelle persone E sono finito A parlare dell'ambiente Comunque ragazzi Spero che non mi avete preso Come un noioso ambientalista Che vuole bloccare il traffico Però nel caso In cui mi dovesse venire In mente di farlo Ovviamente farò Un post su youtube E tutti poter aderire Alla mia proposta Vabbè ragazzi A parte gli scherzi Il video è finito Spero come sempre Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi Commentate dicendomi Soprattutto la vostra Che come sempre Leggo tutti i commenti E quando posso Rispondo pure E niente ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video